I contenuti e le novità inserite nel nuovo calendario della raccolta porta a porta a Teramo, come è noto, diventeranno operativi dal 29 giugno, ma, nonostante la campagna di informazione messa in atto dalla Teramo Ambiente, a pochi giorni dal via, numerose sono le richieste di chiarimento da parte dei cittadini teramani, confusi dal nuovo calendario. Scopriamo insieme quali sono i cambiamenti più salienti del rivisitato servizio porta a porta. Tra le novità di maggiore rilievo c'è l'abolizione della raccolta nei festivi e quando il giorno di festa coinciderà con quello del ritiro dell'organico, il personale passerà il giorno prima. Il rifiuto organico non sarà ritirato più tre volte a settimana, ma due. Gli utenti, domestici e non, dovranno esporre il mastello dell'organico il martedì e il sabato. Plastica e barattolame saranno conferiti assieme e saranno ritirati una volta a settimana, il lunedì. Per smaltire la carta, adesso sarà possibile utilizzare le buste di plastica, sarà raccolta il venerdì, il vetro invece sarà raccolto il giovedì. Nelle frazioni la raccolta si farà il pomeriggio. Il conferimento dei rifiuti, infatti, potrà avvenire dalle 20 alle 6 solo a Teramo Capoluogo, San Nicolò, Piano Daccio e Piano della Lenta. Nelle altre frazioni, dalle 7 alle 11. Infine c'è un'altra novità importante, un servizio dedicato agli esercizi commerciali che producono una grande quantità di rifiuto organico, come le pizzerie, i ristoranti, i fast food, panetterie, forni e fiorai, che avranno più tempo per conferire in strada il rifiuto, dalle 20 alle 5 del mattino, rifiuto che sarà ritirato quotidianamente. Per mettere in piedi tutto questo nuovo sistema, che nel calcolo della Team dovrebbe comportare un risparmio di oltre 600 mila euro all'anno, cambieranno anche le turnazioni dei dipendenti impegnati nel servizio. Rivisitazione del servizio o taglio dei costi?